Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vogliamo parlare degli ultimi sviluppi nella controversia, che coinvolge Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ex partner con una figlia in comune, Luna Marie. È ormai una guerra aperta tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La discussione ruota attorno alla figlia Luna Marie, nata nell'estate del 2021. Belen ha accusato l'ex compagno di trascurare la bambina, mentre Spinalbese, reduce dall'esperienza al grande fratello Vip, ha parlato di presunti capricci della Rodriguez. Spinalbese ha difeso il suo ruolo di padre, dichiarando di amare la figlia più di ogni altra persona e criticando l'uso di babysitter o altre persone al posto del padre. Ha espresso la volontà di essere presente nella vita di sua figlia ogni giorno.D'altra parte, Belen ha reagito duramente, annunciando azioni legali e sottolineando la necessità di proteggere i figli dalle tensioni familiari. Ha deciso di partire per l'Argentina con i suoi figli e il nuovo compagno per trascorrere il capodanno. Dopo mesi di turbulenze emotive seguite alla separazione da Stefano De Martino.Questa vicenda mette in luce una situazione complessa, alimentata da tensioni emotive e conflitti non risolti. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze per entrambe le parti coinvolte. Ecco tutto per oggi. Cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordatevi di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le notizie. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.